Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori e bentrovati a questo appuntamento con Diretta Versilia. Nostro ospite oggi per parlare della festa cristiana tra le più importanti insieme al Natale che si celebra in tutto il mondo cattolico abbiamo Ezio Marcucci uno storico delle nostre parti conosce tutti i dettagli particolari le tradizioni i colori il folclore legato a tutte le feste intanto grazie Marcucci per aver accettato questo nostro invito. Allora i riti della settimana santa cominciamo con oggi giorno del giovedì santo che si comincia a entrare nel vivo delle feste di Pasqua. Sì intanto noi abbiamo la quaresima che inizia 40 giorni prima della Pasqua e in tutto questo periodo si svolge la tradizionale via Crucis nelle chiese si rievoca in buona sostanza quel racconto che ci viene fatto attraverso anche i Vangeli della passione morte di Gesù Cristo e questo tutti i venerdì poi si entra in questo clima della preparazione della Pasqua. Sono due settimane, sono la settimana di passione cosiddetta che prepara il preludio, le palme, siamo partiti la domenica con le palme quindi l'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Tutti questi riti sono a implementare l'Evangelo e il Vangelo così come ci l'hanno trasmesso gli Apostoli. Rievocare nel tempo significa proprio manifestare la nostra adesione a questo racconto. Quindi sono momenti particolari che la chiesa vive e che nonostante i tempi, tutti i tempi che sono corsi, i tempi che sono passati, i momenti particolari, drammatici come viviamo continuamente e costantemente, rimangono appunto ipodromi di questa tradizione se la vogliamo chiamare. Però non la vorrei ridurre a un discorso di tradizione come ce ne sono tanti, tradizione popolare, così, tu Kurt, è un qualche cosa di profondo che è insito proprio nell'animo delle persone. Ecco, si sente, si sente il sapore, gli odori, i profumi, il senso di partecipazione in questo momento particolare, che ha una sua importanza. E ovviamente i riti che si tengono durante tutto questo percorso, che sono in particolar modo queste due settimane importanti che presentano la Pasqua, sono partecipati, sentiti e anche riconosciuti fortemente come elemento caratterizzante proprio di formazione culturale per quello che riguarda il messaggio prorompente del Vangelo. Ecco, abbiamo visto che venerdì scorso, nella Cittadale del Carnevale, il Vescovo della Diocesi di Lucca ha scelto di celebrare la processione del Gesù morto, la Via Crucis. Come valuti questa scelta fatta nel mondo dove si lavora, dove si soffre, dove si crea e dove ci si confronta? Io la valuto positivamente perché la Chiesa si è resa conto da tempo, ma se ne è sempre resa conto che il Cristo è vissuto umanamente come tutti noi, ha partecipato alla vita attiva della gente, probabilmente è stato anche in qualche osteria, è stato anche in qualche ambiente, ha vissuto i festeggiamenti, ha vissuto intensamente l'impegno religioso che esercitava nella sinagoga e successivamente è entrato nel vivo. Se si considera anche proprio analiticamente il percorso che ci viene raccontato, lui ha frequentato di tutto, ha frequentato personaggi di un certo tipo che noi oggi a un certo momento teniamo anche un po' alla stregua di considerazioni e quant'altro, quindi ha fatto un'umanità, una vita umana, quindi entrare nel vivo di quelle che sono le cose che ci circondano è un fatto positivo. La Chiesa non ha limiti, la Chiesa deve continuare questo percorso, questo messaggio prorompente che un uomo a un certo punto della nostra storia ha dato, quindi la cittadella con la sua artisticità, con la sua umanità se vogliamo, perché c'è un'umanità anche nel fare il teatro per fare determinate cose, c'è un'umanità e se l'umanità come dimostra anche questa croce che è un po' la croce, il Cristo Patience come è visto proprio nella liturgia, questa sofferenza di un uomo che praticamente si è speso per l'umanità proprio facendosi inchiodare alla morte di croce, poteva scegliere una strada migliore, poteva scegliere anche di apiurare e dire vabbè io lì non ci vado, invece l'ha fatto per noi, considerarlo a distanza di 2000 anni in un ambito anche spettacolare come quello dell'attività diciamo che a Piareggio, insomma è però rompente quella del carnevale, secondo me è una bella scelta del vescovo che umilmente vedi porta la croce e così farà il Papa, lo farà oggi, il Papa oggi, pensate oggi la messa in cena domini, cioè l'istituzione dell'eucaristia, il momento più solenne, il momento più alto riguardo alla formulazione della Chiesa, Cristo questa persona umana che si dona come corpo, come sangue e in questo contesto il Papa va in carcere a lavare i piedi e a baciare i piedi ai carcerati, la volete più forte di così la lezione? Io penso di no, penso che su queste basi, su questa umiltà in cui si sono dimostrate anche la vita dei Santi successivamente, Francesco, tanti altri Santi grandi della Chiesa, Domenico, perché no, Benedetto, che sono i padri ispiratori di queste liturgie, di queste cose e chiaramente hanno percorso questa grande umanità. Ezio, proprio in questi giorni, sabato per esattezza, su a Terrinca in Alta Versilia, comune di Stazzema, è stata inaugurata una mostra, una mostra che raccoglie tutti i reperti della vita religiosa del nostro popolo. Prima di vedere il servizio che abbiamo realizzato, questa mostra l'hai curata personalmente tu? Sì, l'ho curata personalmente, ne sono anche orgoglioso e sono anche contento di averla fatta in questo Paese, ci sono vari motivi. Intanto il titolo, devozione popolare nell'ambiente domestico. Perché? Perché alla liturgia che si svolge nelle nostre Chiese solenni, per esempio nei Duomini, nelle Chiese importanti d'Italia, ma anche nella più umile Chiesa di un singolo Paese di tutto il territorio mondiale, c'è un'intimità legata all'espressione della fede. L'intimità interna all'ambiente domestico, e cioè l'ambiente in cui le nostre generazioni e tutt'oggi noi viviamo. Qual è quella casa che non ha un simbolo di devozione, un crocifisso, un elemento che caratterizza da capalletto un'immagine dolce della Madonna che accompagna appunto questa benedizione? Enrico Pea nella sua grande laicità ha dimostrato attraverso una pallata, la coperta di tre teli, la dimostrazione dell'espressione popolare della religiosità del popolo della Versilia, quando dice che ci sta un letto grande accosto al muro dove ci sta l'immagine di Maria, l'olivo benedetto e le storie dei santi in poesia. Lo dice Enrico Pea, il laico Enrico Pea, e lo dice nella sua espressione vera perché magari l'ha anche vissuta. Allora questa mostra va proprio non all'indirizzo di rappresentare qualcosa di artisticamente importante, una pittura, una scultura, un qualche cosa fatto anche da qualche artista celebrato o no. Piccole cose che venivano portate per esempio dai madonnari, questi personaggi che in questo periodo primaverile giravano nell'aie delle nostre case portando queste stampe. La gente poi le incorniciava e se le metteva a capalletto, poi le guarnivo ogni anno con la palma benedetta del giorno delle palme, addirittura qualcuno metteva la pianta dell'ascensione, che è cosiddetta, forse non la conoscono in tanti, è una pianta grassa che si leva proprio in questo periodo dai fossi dove c'è l'umidità e si metteva proprio nel periodo pasquale in cima al quadro devozionale da capalletto. A seconda se questa pianta fioriva o seccava, si traevano auspici, è come l'uovo benedetto messo sulla finestra quando ci sono temporali, addirittura Santa Barbara, tutte queste devozioni legate ai santi che proteggevano San Rocco per la peste, San Sebastiano. Ecco questa devozione popolare che la gente in casa incarnava in senso dimostrativo con piccoli oggetti devozionali, è oggetto di questa mostra e io invito la gente a salire a Terrinca, un luogo molto significativo anche perché Terrinca rispetto ad altri paesi dell'entroterra ha rappresentato per certi versi anche fino ad oggi un luogo di grande devozione spirituale, perché lì si sono realizzate anche la figura di due beati francescani, il beato Clemente del XVII secolo e la beata Taddeo Lovardi del XVI secolo che hanno vissuto in questo paese e da questo seme gettato proprio sono fiorite tantissime vocazioni sacerdotali. Tu pensa che negli anni 30 del secolo scorso in questo paese vi erano attivi 36 sacerdoti, se consideri che una popolazione di 7-800 anime esprime 36 vocazioni sacerdotali attive, tu mi fai capire che lì c'è un seme che ha fiorito in maniera esponenziale e straordinaria, quindi a maggior ragione ho voluto farla lì, invitato dal gruppo dei Colombani, queste persone che si attivano a tenere vivo, a tenere resto anche quella parte legata un po' al folclore, infatti questa mostra è articolata fra oggettistica varia, di vario genere e anche implementata dalle preghiere popolari che potrà leggere la gente facendo il percorso. Ecco ora, la vediamo al servizio di questa mostra, di questo evento che è stato inaugurato a Terrinca in Alta Versilia. La devozione religiosa nell'ambiente domestico, è questo il titolo dell'eccezionale mostra d'arte che ha aperto sabato scorso a Terrinca, borgo dell'Alta Versilia nel comune di Stazzema. L'esposizione vanta una ricca varietà di dipinti, di icone, sculture e ceramiche che vanno dal XIV al XX secolo, tutte provenienti dalla raccolta personale di Ezio Marcucci, noto storico e appassionato di cultura locale, che ha introdotto la giornata di apertura raccontando e spiegando la tradizione delle immagini sacre in casa. Si tratta di stampe, di pitture di varia fattura e tecnica esecutiva, opere in marmo, opere in legno, espressione di una forma d'arte antica e ancora affascinante. La mostra, che gode del patrocinio del comune di Stazzema e del gruppo culturale Terrinca, è ospitata nei locali del circolo Arci, Le Tanacce e rimarrà aperta al pubblico fino al 30 di aprile. Era il filadelfo Simi? Sì, quell'uomo seduto, che è il logo della mostra, è la dimostrazione piena di quello che era la realtà. La gente, anche durante l'anno, non nel periodo solo di Natale, di Pasqua, momenti forti della fede, ma durante tutto l'anno, non c'era una sera che nelle case dell'altaversiva, ma di tutto il comprensione, si dicesse Rosario e lo guidava al capofamiglia. Ora, questo che hai visto è un disegno preparatorio di Filadelfo Simi che mi ha molto ispirato, perché c'è questo vecchio, con questa barba, questo pensare, questa testa china, però con questa mano sicura sul rosario. Ecco, affidarci alla fede, no? Affidarci alla solidità di un qualche cosa che fa parte del nostro percorso umano, fa parte del nostro bagaglio di vita. Noi siamo una meteora, non sappiamo quanto si dura, quanto è il nostro percorso di vita, si può essere più lungo o meno lungo e compagnia, ma sappiamo con certezza che il nostro e ci sono delle tappe fondamentali nel corso della nostra vita. Il battesimo, i sacramenti, la cresima, la comunione e poi tutto quello che uno poi sceglie tranquillamente come scelta personale, può farlo, può farlo, lo può vivere, lo può vivere più o meno intensamente, però c'è questo percorso. Quindi questa gente semplice, tu pensa una cosa che è sfuggita alla cronaca che magari la possiamo riprendere successivamente, in questo paese di Terrinca si faceva e si concretizzava nel periodo dei morti, novembre, la vigilia proprio fra i santi e i morti, mettevano fuori dall'uscio di casa un sacchetto di patate, lo mettevano fuori quasi tutti a disposizione di chiunque ne avesse avuto bisogno, lo chiamavano il ben dei morti. Tu pensa anche proprio in questa semplicità, loro erano persone che vivevano di poco, vivevano di pastorizia, vivevano di poco, pensa a raccogliere le patate in cima a pascoli su delle Alpi di Terrinca, le conosciamo tutti, sono anche affascinanti, belle, ma andarci, zappare e poi darne anche una piccola parte minima, minimale e la mettevano fuori in silenzio senza sapere chi la prendeva, chi ne aveva bisogno o se ne avesse avuto bisogno, non si volevano nemmeno confrontare con questa persona, proprio per dare il senso della loro religiosità messa concretamente come elemento di carità concreta. Allora facciamo un brevissimo stacco pubblicitario, riprenderemo subito dopo per entrare più nei particolari di queste tradizioni che per esempio a Terrinca in Alta Versilia si verificavano e forse si verificano ancora, lì nella regia. Seconda parte di Diretta Versilia, salutiamo chi si è messo soltanto ora all'ascolto, ricordiamo che il nostro ospite oggi è Ezio Maccucci, appassionatissimo di storia, di tradizioni nostre e con lui oggi parliamo proprio delle celebrazioni, dei riti, delle storie anche straordinarie che magari in pochi conoscevano legate proprio alla cultura religiosa dei nostri territori. Un attimo prima della pausa pubblicitaria abbiamo parlato di Terrinca e di questa abitudine che in quegli anni, anni, parecchi anni fa, gli abitanti di Terrinca facevano, usavano mettere fuori dalla porta nel periodo di Pasqua, dei morti, un sacco con dentro delle patate e chiunque poteva prendere. Ecco, questa gente non sapeva chi prendeva e perché lo prendeva. E no, perché l'espressione massima della carità dice che la destra non sappia quello che fa la sinistra, e cioè tu fai la carità, però non occorre che tu guardi in faccia a chi la fai, falla. E loro mettevano in pratica questa semplice formula, e cioè loro la mettevano fuori dal portico, dalla porta di casa dove abitano, in quelle viette strette, ma sai che la gente saliva, allora c'era il tram che portava su la gente nella linea cosiddetta, no? C'era questo tram che da Viareggio arrivava fino a Arni praticamente, in parte portava ciumarmi, ma in parte portava su anche popolazioni. E si spostavano fin dagli anni 20 del secolo scorso, siamo intorno al 22-23, gli anni 30 diciamo pienamente, ecco. Quindi la gente, sapendo di questa, che aveva bisogno, proprio estremo bisogno, famiglie numerose dove praticamente c'era bisogno di tutto, salivano proprio sapendo di trovare questa cosa. Era chiesto proprio il ben dei morti, e cioè loro riscattavano le anime dei morti con questa carità, espressa semplicemente col prodotto che loro avevano in grande dimensione. Ma te pensa, i terinchesi, che non sono vissuti con delle miniere d'oro, ma sono vissuti con dei prati su, in campanice, in puntato, partivano, uscivano dal paese, il paese si svuotava, in questo periodo qui, tra poco, e salivano proprio per coltivare questi terreni zappati, portati, e con queste magre economie non solo riuscivano a sfamare la famiglia, ma riuscivano a fare anche delle economie tali che gli hanno permesso, nei secoli, di comprare giù nel piano piuttosto ampiamente. Noi abbiamo tutta un'etimologia di cognomi che proviene proprio da Derrinka, ma anche da altri paesi, Limitro, Filevigliani, Ritignano, Vasati, c'è stata questa immigrazione forte verso la pianura, verso il posto un po' più che rende, in termini di uva, in termini di olio, in termini di Gran Turco, di grano, loro lo hanno fatto con questa magra economia, perché qualcuno diceva, ma ci avevano le cave, ma le cave erano poche, non erano attive così come lo sono state poi in certi anni del Novecento, dove aziende come Lanro, che dal 1821 ha avuto questa intuizione forte della grande industria che ha creato i presupposti, altri latifondisti, Simi, Santini, tante altre figure di primo piano nell'ambito della storia della Versilia, ma non era così facile andare a lavorare alla cava, anche perché insomma le stagioni erano quelle, il tipo di lavoro comportava determinate cose, sì, la aiutava. La piana era più florida, la piana era esposta, ti consentiva un raccolto maggiore, ti consentiva solo patate, orzo e poche altre cose. L'allevamento anche di animali, per dire, il maiale, la vitella nella stalla e quant'altro. Quindi questo è stato un percorso di storia grande di questo paese, non è che come tutti altri paesi, intendiamoci bene, è un fatto abbastanza comune, ma Terrinca proprio come scelta, diciamo, anche proprio per riproporre questo tipo di religiosità profonda, come ho detto all'inizio della nostra chiacchierata che facciamo oggi, secondo me si prestava e poi hanno questo bel locale restaurato con amore, che è una casa antichissima dove sono rimasti i muri di pietra, i travi di castagno, mi è sembrato proprio il luogo ideale più che una sede, diciamo, un po' più, magari più centrale come punto di arrivo, di traffico perché andare a Terrinca, ma per esempio nel periodo di Pasqua la gente può fare una bella passeggiata su, in montagna, sulle Alpi Apuane e visitando il paese può avere l'occasione anche di vedere questo momento particolare che sono sicuro susciterà dei sentimenti di calore interno perché ognuno si riconoscerà attraverso anche queste immagini che hanno messo molti in magazzino, vedi queste immagini le ho comprate a mercatini, qualcuno me le ha regalate perché le dismetteva, le levava e io nel tempo, anni, 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 me ne sono messe lì una, 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 una e poi ho trovato il modo di poterle esprimere per farle fruire per un certo periodo di tempo a tante persone che lo vorranno fare, tutto lì. Cambiamo argomento per un attimo, occupiamoci dell'ennesimo furto che durante la notte è stato tentato, con danni alla porta, al Palazzetto dello Sporto di Via Riccia. La notte scorsa hanno tentato di entrare ancora una volta all'interno del Palabarsacchi, nel lato del campetto di basket, il rinforzo messo alle porte da parte dei dirigenti del Centro Giovani Calciatori hanno evitato che gli ignoti potessero entrare all'interno della struttura, ma hanno danneggiato la porta. Il Presidente del Centro Giovani Calciatori Alessandro Palagi a questo punto ha deciso di mettere alcuni vigilantes la notte per cercare di evitare questi episodi che si stanno ripetendo con sempre maggiore frequenza. Non ultimo, ancora una volta, qualche settimana fa i ignoti avevano tentato di entrare nuovamente all'interno danneggiando la porta e poi nelle settimane ancora precedenti addirittura si erano introdotti all'interno degli spogliatoi lasciando per terra anche scrementi e altri rifiuti. Quindi un motivo ancora una volta di richiedere sorveglianza nella zona del Palabarsacchi, preso di mira da tempo, da ignoti e malintenzionati. E questo purtroppo ormai lo registriamo quasi quotidianamente. Prima di tornare a parlare con Ezio Marcucci andiamo a vedere anche il problema che si è verificato in questi giorni, ne abbiamo parlato anche nei nostri servizi, lo sversamento nel fosso parabola di acqua di fogna per intenderci che arriva dal depuratore sul quale si stavano facendo dei lavori. Vediamo. Sembrano non finire mai in Versilia i problemi di inquinamento legati allo sversamento di liquami dai depuratori malfunzionanti nei corsi d'acqua della nostra zona. L'ultimo in ordine di tempo è il depuratore di viareggio, oggetto di lavori di manutenzione. Operatori ARPAT del settore Versilia Massaciuccoli nei giorni scorsi hanno effettuato un sopralluogo prelevando campioni di acqua verificando che nel fosso parabola nel quale perviene lo scarico del depuratore e che si mette nel canale Burlamacca erano presenti liquami non depurati. ARPAT, pur comprendendo le motivazioni derivanti dalla manutenzione in atto, ha scritto a Gaia, gestore dell'impianto, e al comune di viareggio per evidenziare che la semplice comunicazione non solleva dall'attuare tutte le operazioni necessarie per mitigare le criticità evidenziate lungo il fosso farabola. L'Agenzia regionale dell'Ambiente, anche in vista del prossimo periodo estivo, chiede il ripristino, nel più breve tempo possibile, del rispetto dei limiti tabellari e di conoscere motivazioni e azioni messe in campo. L'assessore all'Ambiente del comune di viareggio ha fornito oggi un aggiornamento sulla situazione. Abbiamo ricevuto comunicazione per conoscenza da parte di Gaia dell'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione sull'impianto. Abbiamo chiesto già stamani le specifiche tecniche di questi lavori e stiamo aspettando che la società ce le fornisca. Si tratta comunque di normali, da quello che ci è stato detto per i primi contatti che abbiamo avuto, si tratta di normale pulizia delle vasche in attuazione di questi lavori. Comunque stiamo attenzionando da subito il fenomeno e ci stiamo facendo inviare dalla società tutte le informazioni e tutte le specifiche tecniche che ci servono per capire la tipologia di lavori che sono stati eseguiti. Ripeto, è una situazione che stiamo tenendo sotto stretto controllo. Bene, Ezi, torniamo a parlare delle celebrazioni in occasione della Settimana Santa. Domani, venerdì, la via Crucis. La triennale si fa a Forte dei Marmi, se non sbaglio, quest'anno, vero? Sì, nel circuito Seravezza-Pietra Santa a Forte dei Marmi, quest'anno tocca a Forte dei Marmi. Poi sarà Pietra Santa e di nuovo Seravezza. Ma c'è anche una manifestazione a Retignano, che è un paese limitrofo, per esempio lì nella zona sopra Ponte Stazio Mese, fra Levigliani e Terrinca. Retignano è un luogo molto suggestivo perché illuminano tutta la montagna, è una cosa molto bella vedersi e poi c'è questa tradizione di trasportare questo simulacro della pietà praticamente come progestione. Mentre noi a Strettoia proseguiamo, come tutti gli anni ormai un appuntamento che si tiene da oltre 30 anni, la via Crucis è vivente. La via Crucis è vivente è un momento per rivivere la passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo attraverso proprio figuranti in costume che a partire dalla Chiesa si snoderà tutto nel percorso suggestivo della collina di Strettoia per arrivare a un luogo dove ci sarà la crocifissione, la deposizione della croce e il sepolcro. Prima ci saranno le stazioni intermedie, ovviamente partendo dall'istituzione dell'Eucaristia, l'ultima cena, l'orazione di Gesù proprio nell'orto, che è un luogo suggestivo perché c'è una cascata d'acqua da vedere. Noi sfruttiamo proprio come abbiamo il paese, non è che facciamo delle costruzioni megagalattiche di scenografie e così, noi andiamo lungo il paese meditando stazione per stazione questo momento della passione, devozione e morte di Cristo. È molto seguita da tanti anni, ormai ne viene un folto pubblico che non manca mai all'appuntamento, noi lo facciamo tutti gli anni, mentre queste processioni come Camaiore, per esempio, altre località, le mitrofe qui al Via Reggino e quant'altro, le fanno triennalmente, noi tutti gli anni, quindi sono più di 60 personaggi in costume che rievocheranno attraverso questi momenti particolari, Pilato, il Sinedrio, il rinnegamento di Pietro, il carico della croce, il Cireneo, le piedonne, la Veronica che asciuga il voto a Gesù, l'incontro con la madre e poi questo è un momento clone, proprio quello della crocifissione, con musiche, canti e preghiere che accompagneranno questo svolgimento nelle strade del paese di Strettoia domani sera dalle 9 in poi. È come organizzata dalla locale Proloco oppure… Ma insomma l'idea partì da me nell'85, in lontano 85, oggi siamo a 32 anni di distanza, si mantiene grazie alla collaborazione di tutti i paesani, chi ha buona volontà, gente di vario genere, di varia estrazione che si veste, proprio con i vestiti anche piuttosto belli, suggestivi, rievocativi proprio di quel momento particolare e quindi è qualcosa da vedere, da vivere, soprattutto non è una manifestazione folclorica o teatrale, ci mancherebbe altro, è proprio un momento liturgico legato proprio, abbiamo il parroco che spiegherà stazione per stazione, questi momenti salienti di questo venerdì di passione e morte che poi culminerà con la luce della risurrezione e della Pasqua e quindi è tutta una preparazione, poi dopo ci sono i riti del Sabato Santo, la messa solenne della Vigilia, della Pasqua in cui si benedicono anche le uova, no? Perché noi leghiamo la profondità del messaggio evangelico anche un po' alla tradizione, l'uovo e l'acqua santa che si consuma la mattina a colazione, in quella mostra, la sua Terrinca c'è anche un tavolo, un tavolo imbandito per l'occasione, chi è che non ricorda la colazione di Pasqua? La colazione di Pasqua è un rito, perché la colazione si fa sempre, si va al bar, cappuccini, ma la colazione di Pasqua? Ma la colazione di Pasqua per noi è come rimasta ai tempi proprio antichi, 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 la meglio tovaglia bianca, candida, le uova, la schiacciata, l'acqua santa benedetta la notte del Sabato e così si vive e si comincia proprio questo preludio della risurrezione e l'uovo è la risurrezione, perché se si schiude l'uovo, quando l'uovo si schiude è come il sepolcro di Cristo che si schiude e che promana questa risurrezione, è la forza trainante della Pasqua, senza questo, perché sì, ci sono ridi venerdì, giovedì, la lavanda, l'umiltà, i patimenti, le sofferenze, il sangue e la violenza se vogliamo anche per certi versi, perché insomma basterebbe pensare inchiodato sulla croce, il trafitto col costato e quant'altro, quindi è una cosa anche piuttosto truce se vogliamo, però è questo percorso che ci è stato insegnato e che da duemila anni promana ancora questo mistero, questo senso di appartenenza a una, a qualche cosa che tocca a molte coscienze, a molta gente, insomma mi pare che siamo in quel solco lì, ecco, nulla di più. Allora ricordiamo che stasera, domani sera alle 21 a Strettoia, nel comune di Petrasanta, ci sarà questa solenne processione vivente che ricorda tutta la tappa che fece Gesù nel suo Calvario. Io ringrazio molto Ezio Marcucci, molto attento, un augurio di buona Pasqua ai nostri ascoltatori. Sì, io vorrei fare un saluto particolare agli ospiti del Santa Caterina, alla Pieve di Camaiore, a Suor Irene, alle sue consorelle, a tutto lo staff infermieristico, perché sto frequentando da alcuni mesi questo locale e mi rendo conto quanta sofferenza c'è, perché le via Crucis sono anche quelle spettacolari che rievocavo in Compagnovella, ma purtroppo nella vita ci sono tante via Crucis, tante persone anziane che hanno bisogno di assistenza, di amore, di conforto e quindi mando un saluto agli ospiti in modo particolare, ma anche a coloro che questi ospiti li trattano con grande dedizione, con grande cura, con grande sentimento che va anche al di là di quello che è l'azione religiosa, questa grande umanità espressa attraverso chi ha bisogno. Grazie di nuovo a Dezio Marcucci, complimenti a questa, non so, una cooperativa, che cos'è? È un istituto religioso, delle sue ore domenicane di San Sisto, che è alla Pieve di Camaiore, dove ci sono tante persone anziane. Io devo chiudere perché abbiamo sfratto di due minuti, grazie a Dezio Marcucci, grazie a voi che ci avete seguito da casa, l'appuntamento come sempre è per domani alla solita ora, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.